Per me si abbia consistito soprattutto nel chiuso di ammettele, cedeggiante. Borghezio dovrebbe chiedere scusa per la volgarità di ciò che ha detto a tutti gli abruzzesi e soprattutto a tutti gli aquilani che hanno sofferto e soffrono i danni di un dramma senza fine. Ma cosa vuole che risponda? È un poverino, è una cosa assurda, è una cosa per la quale forse è meglio neanche arrabbiarsi perché esisterebbe troppo spazio. Questi commenti del presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila Carlo Benedetti e del consigliere di opposizione Enzo Lombardi. All'indomani dell'intervista shock dell'europarlamentare della Lega Nord Mario Borghezio che ha provocato un diluvio di polemiche in risposta al vetrolio praticamente da tutti gli esponenti politici abruzzesi a cominciare dal presidente Gianni Chiodi e ha sollevato un polverone anche a livello nazionale. Benedetti e Lombardi, opposti schieramenti ma entrambi abruzzesi, ovvero seguendo il borghezio pensiero non emendabile da goffi tentativi di smentita, appartenente ad una regione che ha un peso morto e per di più terremotati o meglio terroni motati, ossia propensi alla lamentela e alla sceneggiata incapaci di cavarsela da soli, privilegiati rispetto agli alluvionati del Veneto in eterna attesa di aiuti dall'alto e dal nord, che insomma già hanno avuto tanto se non troppo. Il sindaco Massimo Cialente non vuole tornare sulla vicenda, ribadisce il no comment sarcastico di ieri e spiega Ho riunioni importanti e oggi non ho tempo da perdere con borghezio. E proprio questa mattina in conferenza stampa bipartisan in comune è stata illustrata una mozione con cui si intende imporre al governo e alle strutture commissariali sempre più oggetto di critiche per la loro autoreferenzialità e mancanza di risultati concreti l'istituzione di un'area a fattibilità immediata del centro storico dell'Aquila che va dalla villa comunale alla fontana luminosa dove completare con impegno di uomini, mezzi e risorse straordinari pari a quello messo in campo per il progetto case la ricostruzione in 12 mesi sfida non impossibile da cui dipende il futuro della città basta concentrarsi sui fatti e non sulle chiacchiere al vento.